stavo scorrendo lì, ogni tanto io scorro, sapete che è difficile leggere tutti i messaggi di Instagram perché mi scrivete in tantissimi, ho visto che c'era una persona che mi ha scritto, conto i giorni finché mi rispondi, era arrivata, ditemi voi secondo voi a che giorno era arrivata, ditemi secondo voi a che giorno era arrivata, cioè era pazzesco eh ragazzi, pazzesco, cioè ora lo farete tutti lo so, io le ho risposto perché era tantissimo, no vabbè, 2000, 100 milioni, non è possibile, no, era 181 giorni, 181 giorni che mi scriveva, e io le ho risposto, ho detto, in serio, 180 giorni, pazienza che ci hai voluta a scrivere 181 giorni, tutti i giorni eh, pazzesco, finché non mi rispondi alla fine ho interrotto così questa catena, sarebbe stato bello scriverle tipo al 199esimo giorno per interromperle la streak così.